le cinque mosse del latino con sallustio questo il video 6 il titolo è situazione favorevoli alla congiura siamo col paragrafo 4 del capitolo 16 una serie di video espressamente dedicate alla congiura di catilina ma le cinque mosse servono a capire un po come muoversi nell'ambito della traduzione e le cinque mosse sono subito qui sotto indicate l'analisi del periodo l'analisi della frase la costruzione la proposta di traduzione la verifica del senso partiamo per seguire passo passo come affrontare la traduzione pronti via la prima operazione da compiere è l'identificazione dei verbi che evidenziamo abbiamo un participio perfetto poi abbiamo un erat predicato verbale anzi nominale con ingens erat poi abbiamo un usi da utor uteris uso sum uti un participio perfetto verbo deponente exoptabant è il predicato verbale un imperfetto da exopto exoptare poi abbiamo opprimunderei pubblica si tratta di un costrutto particolare si tratta di un gerundivo lo riconosco perché noti la concordanza tra opprimunde che poi sarebbe opprimende la u sta di casa nel discorso degli storici gli storici spesso ricorrono ad arcaismi ma noi lo leggiamo nel latino classico come opprimende rei pubblica data la concordanza tra opprimendus aum e rei pubblica questo è un gerundivo poi abbiamo cepit ancora gerebat abbiamo petenti bellissimo esempio di participio presente da petto petere e sono finiti i verbi perché in realtà le ultime frasi sono frasi nominali ebbene sempre nel riconoscimento in questo primo approccio dell'analisi del periodo e delle frasi devo procedere dunque a evidenziare le congiunzioni quindi c'è questo que is amicis et sociis et sociis va sciolto così simula un avverbio il quad che è in anafora vale come poiché quindi introduce delle proposizioni causali nel primo caso quad era tel verbo nel secondo quad ex optabant e all'interno abbiamo un usi che evidentemente è un participio declinato al nominativo plurale maschile che concorda con plerique sull'animilites la maggior parte dei soldati di silla dopo i due quad e abbiamo finalmente il verbo principale che cepit cepit consiglium opprimende rei pubblica e poi sono tante frasi nominali in cui non ho delle congiunzioni da evidenziare se non questo que per dire tutte et tranquille res omnes tutti questi colori servono in fondo a capire come si presenti il nostro testo il soggetto è lì e catilina nella prima riga di cui si dice confisus si costruisce con il dativo quindi è confisus is amicis et sociis his dativo plurale da ic ec oc pronome aggettivo dimostrativo simul quad es alienum es eris e il bronzo il bronzo estraneo quindi il debito è un'espressione es alienum per indicare il debito era tingens per omnes arcaismo omnes terras complemento di moto per luogo et quad soggetto plerique sull'animilites usi suo suo da sus aum e aggettivo sostantivato aggettivo neutro e questo larges è interessante perché sarebbe large ius una forma di comparativo te lo riporto sotto abbiamo large che sarebbe largamente abbondantemente il comparativo dell'avverbio corrisponde al comparativo neutro e poi abbiamo anche la forma del superlativo dell'avverbio che è largissima con la e finale largissime in questo caso faccio anche osservare che c'è usi suo e larges vale come comparativo assoluto che cosa significa significa che non si traduce più abbondantemente ma alquanto abbondantemente troppo abbondantemente perché manca il secondo termine di paragone sul comparativo assoluto ti lascio nella descrizione il link al video dedicato adesso memores rapinarum et victorie veteris genitivi retti da memores ex optabant si auguravano che cosa civile bellum come complemento oggetto e poi c'è cepit consiglium opprimende rei pubbliche e poi tante frasi nominali in Italia nullus exercitus neus pompeius gerebat bellum in extremis terris e magna spes ipsi petenti consulatum dove consulatum è il complemento oggetto di petenti e ipsi da ipsa ipsum sarebbe stesso e quindi è riferito a catilina e senatus nichil sane niente affatto vale intentus e poi res omnes tutte et tranquille e poi sed ea prorsus opportuna catiline è sottinteso il verbo essere in tutte queste frasi cioè nullus exercitus eras in Italia poi magna spes erat ipsi e magna spes ipsi erat petenti consulatum a lui era una grande speranza quindi lui nutriva una grande speranza come dativo di possesso il senato niente affatto vigile era non era non era niente affatto vigile e la situazione tutte le situazioni erano erant tutte e tranquille e poi erant opportuna catiline a questo punto posso procedere con la costruzione quindi metterò catilina poi confisus con il dativo is amicis et sociis va così poi c'è simul quad a es alienum erat ingens per omnes terras abbiamo detto et quad plerique sull'anim ilites io metterei così metterei una virgola per isolare questa forma di participio usi suo largius l'avverbio e poi ancora aggiungiamoci subito un memores rapinarum et victorie veteris sto facendo la costruzione in diretta con te per farti capire come i termini vadano effettivamente spostati come vadano visualizzati in una situazione una posizione differente perché in fondo questo è implica la traduzione altrimenti tutto il discorso di analisi morfosintattica non serve a niente invece funzionale a capire dove poi dovrò inserire dovrò porre le parole cepit consiglium opprimende rei pubblici in italia nullus exercitus erat possiamo metterlo intenderlo come sottinteso neus pompeius gerebat bellum in extremis terris magna spes abbiamo detto che va anche erat erat ipsi consulatum petenti petenti consulatum senatus ancora mettiamoci qui erat nihil san intentus e poi res omnes va come soggetto erant è il mio verbo erant tutte et tranquille sed ea prorsus opportuna catiline erant quindi sed ea erant possiamo inserirlo qui erant prorsus opportuna catiline il mio testo si presta dunque alla mia proposta di traduzione perché proposta perché bisogna fino all'ultimo considerare che qualcosa potrebbe non quadrare non tornare e quindi bisogna essere disposti a metterlo nuovamente in gioco catilina confidando is amicis et sociis in questi meglio che tali in questi amici ed alleati allo stesso tempo poiché per omnis terras per tutte le terre il debito era ingente et quod e per il fatto che plerique sull'ani milites la maggior parte dei soldati di silla usi suo largius avendo fatto un uso alquanto dispendioso dei propri beni del suo sarebbe letteralmente memori delle rapine e dell'antica vittoria ex optaban civile bellum si auguravano la guerra civile rispetto a tutto questo che cosa fa catilina finalmente la principale catilina prese la decisione opprimondare i pubblici di calpestare di schiacciare di abbattere forse meglio lo stato nessun esercito si trovava in italia neo pompeo conduceva una guerra all'estremità delle terre in terre lontanissime grande era la speranza per lui stesso che aspirava il consolato perché petere consolato un significa aspirare al consolato il senato non era niente affatto preoccupato quindi non era vigile vuol dire che non era attento a quello che stava accadendo e tutta la situazione tutte le cose sarebbe tutta la situazione era calma e tranquilla ma ea ma quelle cose oppure quella la stessa la situazione di cui appena parlato del tutto prorsus conveniente per catilina rispetto a questo ho un'ultima operazione da compiere che è quella della verifica del senso non si stacca non si considera concluso il lavoro finché non si procede a verificare ma è l'ultima mossa del latino con sallustio e con tutti gli altri autori non si procede a verificare che quello che abbiamo scritto abbia un senso allora con parole tue bisogna ripercorrere il testo e capire che cosa sallustio abbia voluto scrivere quali sono i temi che emergono gli argomenti sui quali ha puntato per questo breve brano qui risulta che catilina confida in amici e in alleati sono detti questi quindi ne ha parlato prima e situazioni favorevoli sono il fatto che ovunque c'erano alti debiti quindi bisognava essere una condizione di costrizione economica consideriamo anche che gli stessi seguaci di silla degli eserciti di silla avevano speso in lungo in largo si ricordavano di quello che avevano potuto effettuare in termini di rapine oppure rievocavano le vittorie del passato e tutto questo li portava a desiderare la guerra civile e per questo catilina pensò che fosse giunto il momento di ambire a qualcosa di assolutamente illegale che è appunto abbattere lo stato, calpestare lo stato, la dignità dello stato e poi va in elenco con tutte le situazioni favorevoli non ci sono eserciti, Pompeo che poteva difendere la repubblica è lontano questa situazione di disagio diffuso non poteva che essere favorevole alla sua aspirazione al consolato il senato dorme perché non è per nulla vigile su quello che sta accadendo insomma sembra che tutto quanto sia sicuro e tranquillo che le acque siano ferme ma proprio per questa ragione sembra quanto mai opportuno a catilina intervenire in modo tempestivo ebbene questo era il video 6 di quelli dedicati alle 5 mosse del latino con Sallustio qui in elenco vedi gli autori che finora sono stati coinvolti nei video realizzati o da realizzare come per esempio Livio c'è anche Svetonio fra gli storici e di Sallustio ci stiamo occupando se il lavoro ti è sembrato utile ti invito a lasciare un like ad iscriverti alberga youtube che ormai dopo tre anni e mezzo di attività si compone addirittura di più di 500 video di letteratura italiana e latina e di molti video dedicati alla morfosintassi latina e in misura minore alla lingua greca insomma per un aiuto nel corso dei tuoi studi ti invito ad iscriverti al canale intanto grazie per l'attenzione e buon lavoro